Madonna, pensa cosa fa fare il calcio, renditi conto, anche un uomo, anche un uomo così importante che parla di un altro di fantasia, vabbè ma detto questo, no ma Icardi esiste, Icardi è vero, il bomber più forte dell'elite ragazzi, il bomber, scusa, 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 scusa un atto, quindi ricapitolando, tu non sai parlare ma fai la radio, ok, sei brutto come la merda e ti scopri le fiche e in più sei anche interista, cioè ti rendi conto, E se i reti uniti in culo sotto l'unghia c'hai l'oro, sappilo, no, 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 no punti sotto quest'anno ci avrò. Però a me il calcio fa cagare, lo faccio solo per rompere i coglioni alla gente. Detto questo, donna che ansia che sei, Pippo, un attimo, il link, il lancio, le robe, famici arrivare, figlio di puttana. Ma donna che schiaffo. No, schiaffo al microfono. Che cozzo. Questo l'avrebbe fatto anche a vostro. Fami sentire il rumore, ridaglielo. Aspetta, devo ripetere. Poi da questo schiaffo al microfono. 10, 9. Stiamo per lanciare Wenderland dove ha rubato la voce campionata di saluto a Antonio che mi sta pure sul cazzo. Ma io sto schiaffo. No, si rompe. No, l'hai rotto. Pensa che l'hai pagato tu, pensi che stronzo che sei. Si, 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 si. Si è rotto tutta la French, Marco. Porca puttana. E' scritto che è delle cinesi. Ciao, sono Gianfranco, il marito della voce operativa del Wenderland. Oh, cazzo fai? Mi fotti il posto. Ma no, cara, ho visto che non c'eri e allora ho pensato di sostituirti. Levati dal cazzo subito, prima che ti metta le mani in faccia. Sei la solita puttanella. Cosa hai detto? Sei la solita puttanella. Mi stai eccitando? Dimmi qualcos'altro di perverso. Cagna. Ah, o voglia. Bastarda cagnona. Ah, o voglia. Ti scondo. Adesso vai in camera da letto e aspetta un minuto. Io lancio il Wenderland e poi vengo a farmi spaccare da te. Va bene, puttanella mia. Ce l'ho durissimo. Te lo succhio tutto. Ora Wender chiamerà, con le voci di, saluta Antonio, la gente a casa. Andiamo. Pronto? 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 Saluta Antonio. Eh, saluta Antonio. Vuoi salutare Antonio? Eh, saluta Antonio. Eh, saluta Antonio. Eh, saluta Antonio. Eh, non già cerchissima la piglielo un culo. Capisci? Eh, niente. Eh, niente. Saluta Antonio. Eh, saluta sto cazzo. Pronto? 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 Chi è? Pronto. Che è? Eh, niente. Chi è? Come chi sono? Sono Marco. Oh Marco, dimmi. Tutto bene. Sì, come stai? Saluta Antonio. Eh, mi stai facendo i coglioni subito. Stai facendo i coglioni subito. Ce la facciamo una canna. Dopo? Vuoi salutare Antonio? Ando? Pronto? 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 E saluta Antonio. Minchia. Pronto? Eh, niente. Questo è un drogato. Tutto bene. Questo è un drogato. Ce la facciamo una canna? minchia, ma viene Ravenna un attimo. Saluta un cono nel culo. Saluta Antonio. Tutto dentro. Saluta Antonio. E saluta Antonio. Madonna, madonna. Pronto? O scemo? E niente. Quindi? Tutto bene. Ancora? Ancora? Saluta Antonio. Puoi salutare Antonio? No! E saluta Antonio. Ha rotto il cazzo. E niente. E niente dice lui. Puttana se vieni qua, ti ficco un carciofo tutto dentro. Minchia, come... Pronto? Hai capito o no? Pronto? Figlio di puttana. Ce la facciamo una canna? Con tua madre, quella p***a. Le la ficco tutta in c***a. Hai capito o no? E niente. Le la pomo dal c***o, quella faccerona. Saluta Antonio. Grepa. Saluta Antonio. Chifo. Abbaia. Saluta Antonio. Raio. Saluta Antonio. Madonna un carciofo dritto. Mmmmm. Brainone. Brainone. Brainone di Pronto? Pronto. E chi parla? E niente. E niente. E che cazzo hai? E già in mente. Già metti il coglione perché senti parlare napolestano. E niente. E che c'è sta? E che cazzo? No, m'è c***o che te parlo come in c***o! C***o! No, m'è c***o che tu senti di c***o! C***o che chi sono? Sono Marco. E baffanculo! Ce lo facciamo una canna. E la canna, la canna, la canna. Che cazzo che vuoi? E niente. E niente. E niente. che sono macchina, che sono dentro il mercato, e niente, me lo sono fatto a mettere in culo, e niente. Saluta Antonio. E saluta questo cazzo, mi sono Tony Spade. E saluta Antonio. Branda, 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 branda. E niente, e niente, e che c'è sta, e che cazzo. Come chi sono? Sono Marco. E baffanculo! Lanzarone! E niente. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare, invia subito il numero di telefono a Wender at 105.net. Aspetta, aspetta che sto aggiungendo il nome nell'elenco, scusate, ok. Madonna, quanto mi sta sul cazzo sto bambino, mamma mia. Ma poverino! Eh vabbè, tanto mi, gli chiederò scusa poi, l'ho messo nell'elenco. Ma tu ci sfoghi, mica lo chiami! Marco, mi hanno riferito che hai voglia di un cornetto algida e che a Miami non si trova. Ci sono? Beh, puoi fare solo una cosa. Fottiti! Grazie!